. Grande Fratello Vip 3, le prime dichiarazioni di Ilari Blasi e Alfonso Signorini Ilari Blasi e Alfonso Signorini sono pronti ad aprire i battenti e tornare in onda con una nuova edizione del Grande Fratello Vip. . Il cast ufficiale del reality è stato finalmente svelato, anche se gli autori della trasmissione sembrano voler tenere ancora nascosti alcuni dettagli di ciò che hanno in serbo per i milioni di telespettatori. . Intervistati da TV Sorrisi e Canzoni, la bella conduttrice romana e l'opinionista hanno svelato che anche quest'anno ci saranno tantissime sorprese e numerosi colpi di scena. Grande Fratello Vip 3, Ilari Blasi e Alfonso Signorini rivelano tutte le novità sul reality. . Fervono i preparativi per la terza edizione del Grande Fratello Vip che inizierà il prossimo lunedì 24 settembre 2018. A pochi giorni dal debutto, arrivano anche le prime dichiarazioni di Ilari e Alfonso. . La Blasi in particolare ci ha tenuto a svelare che quest'anno nella famosa casa di Cinecittà ci sarà senza dubbio qualche cambiamento. . So che non ci sarà più la stazione e che qualcuno entrerà nella casa con una modalità nuova, ma l'ho scoperto origliando quello che dicevano gli autori. A me non confidano nulla. Dal canto suo, Signorini ha rivelato che i concorrenti di questa nuova edizione del reality hanno tutte le carte in regola per far divertire e sorprendere il pubblico. . Le premesse per divertirsi ci sono tutte. Tra le donne scommetto sue Leonora Giorgi, un tipo ingestibile, e la Fusco, per la sua esuberanza prevedo che andrà in nomination ogni settimana. . . Tra gli uomini mi interessano molto Walter Nudo, un paraguru moderno, e Francesco Monte, che mi auguro possa trovare la sua identità. . . . .